I contagi da covid galoppano in Abruzzo ma i ricoveri restano stabili e oggi intanto terminerà lo stato di emergenza legato alla pandemia. La circolazione del virus riconducibile ormai totalmente alla variante omicron e alle sue sottovarianti non si placa in media in Abruzzo. Sono 2300 i nuovi casi ogni giorno e generalmente il tempo necessario a negativizzarsi è più lungo dalle due settimane ai 20 giorni. Gli ospedali però reggono sono meno di 20 ricoverati nelle terapie intensive e circa 300 quelli in area medica. La campagna vaccinale intanto nelle ultime settimane ha subito un forte rallentamento. Non è servito nemmeno il vaccino Novavax, quello cioè con tecnologia tradizionale e non a mRNA a convincere gli indecisi. In Abruzzo ad un mese da quando Novavax è arrivato di questo vaccino sono state somministrate 724 dosi. Il rischio di una nuova ondata, dicono gli esperti, è rappresentato dall'allentamento delle restrizioni. Oggi, dopo oltre due anni, terminerà lo stato di emergenza e da domani inizierà il graduale ritorno alla cosiddetta normalità, un percorso che terminerà il 15 giugno con la fine di ogni obbligo di vaccino. Da domani, primo giorno non in emergenza covid, diremo addio al comitato tecnico scientifico che ha finora indirizzato il ministero della sanità e addio anche alla struttura commissariale del generale figliuolo. La gestione sanitaria tornerà in capo alle regioni, seppur sia stata istituita un'unità per il completamento della campagna vaccinale, si legge nell'ultimo decreto covid, e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. E da domani terminerà anche il sistema colori delle regioni. Eventuali restrizioni dovranno essere le stesse in tutta Italia. E anche il certificato verde sarà meno necessario. Il Super Green Pass servirà ancora per accedere a palestre, piscine, centri culturali, feste, congressi e convegni, casino e discoteche. Per entrare in bar e ristoranti, per salire sui mezzi pubblici o per recarsi al lavoro, invece, basterà il Green Pass base, quello cioè ottenibile anche mediante tampone. Al contempo si potrà accedere liberamente a negozi, banche, poste e uffici pubblici.